...paura, se lo fanno come l'hanno preparato, è veramente bellissimo. Se tu esse il nuovo logo della scuola di sci, guarda lì... ...le cavalcato, le cavalcato e le vantibie... ...per accoglierli, preparate le mani, lasciate spazio... ...e fate un grande applauso a maestri della scuola di sci, io e coordinato da Roberto Modrini...